e poi come volevamo anche ringraziare come tavolo io e Tura volevamo ringraziare Don Massimo perché Don Massimo in realtà non è nuovo, non è un novellino sono anni che lavora nella pastore della salute sono anni che collabora e quindi partecipa al tavolo e anzi è stato dentro il tavolo quindi io credo che dobbiamo anche ringraziare Don Massimo e dai facciamo un applauso facciamo un applauso a Don Massimo Allora è umanamente impossibile dire qualcosa ora al fine di questa giornata senza ripetersi perché abbiamo detto pressoché tutto quindi non tenterò nemmeno di fare sintesi per la vostra gioia né tantomeno cercherò di tirar fuori qualcosa di nuovo posso però dire la mia esperienza in un secondo questo sì ve lo posso dire perché pensavo quando sarò grande quando avrò tempo scriverò un libro dal titolo Un prete in SPDC perché quando nell'università di Tor Vergata abbiamo aperto il servizio di psichiatria di agnosi e cura il professor Siracusano molto carinamente mi ha trascinato dentro fin dall'inizio francamente non capivo esattamente quale fosse il ruolo del cappellano l'ho capito strada facendo e fra un attimo ve lo dico le parole che portiamo a casa in estrema sintesi sicuramente sono il verbo accogliere l'abbiamo sentito ripetere più di una volta che non significa fare entrare in casa significa permettere all'altro di entrare nella mia vita e lasciarmi coinvolgere dall'altro di fronte alla malattia psichiatrica la salute mentale è un grosso problema perché io devo superare me stesso le mie paure le mie difficoltà e andare ad abbracciare l'altro così com'è con tutti i rischi che questo comporta e non è facile forse né tanto meno immediato perché ogni volta che io permetto a qualcuno di entrare nella mia casa nella mia vita devo fare un po' di spazio un po' meno di me per lasciare spazio a un po' di te e quando una persona non riesco a controllarla a gestirla a capirla perché è bizzarra come diceva Tonino è leggermente diversa questo mi preoccupa ma se lo farete se sarete capaci di fare lasciare questo spazio potreste anche venire travolti da qualche bellissima sorpresa questa persona potrebbe illuminare la vostra giornata per qualsiasi motivo e potreste anche avere l'occasione di imparare qualcosa e di farvi ulteriormente coinvolgere un altro termine che è stato ripetuto n volte durante la giornata è lo sguardo noi sappiamo che è un passaggio evangelico fondamentale Gesù con lo sguardo ha fatto tantissime cose in alcuni casi ha guarito ma soprattutto sempre ogni volta che fissava lo sguardo lui amava amava guardando le persone per quello che erano con la capacità di conoscerle di avvicinarsi a loro fissò lo sguardo dice il Vangelo e l'ha fatto tante volte l'ha fatto allora noi siamo capaci di utilizzare il nostro sguardo per amare il nostro ufficio il prossimo anno ci penserà molto su questa cosa su una grande differenza che è il guardare e il vedere guardiamo tante cose ne vediamo molte poche abbiamo cominciato la nostra riflessione partendo dal presupposto che spesso vediamo la malattia guardiamo la malattia ma non vediamo la persona allora dobbiamo educare il nostro sguardo ad un passo ulteriore ad essere capace di vedere quello che anche che immediatamente non appare è stato parlato di un ruolo profetico della Chiesa è stato detto l'ha gridato Don Carmine poco fa quando ha parlato di una Chiesa afona la Chiesa non è afona io credo Don Carmine lo dice con grande passione io lo capisco perché la condivido la sua passione forse non grida abbastanza non la dice abbastanza a voce alta la Chiesa l'ha sempre detto forse è l'unica che ha sempre sollevato la voce in tante situazioni storiche deve farlo ancora di più deve farlo ancora meglio ma io credo che in questa profezia non ci sia solo un annuncio ma ci sia un agire la Chiesa deve diventare un modello di riferimento in certi ambiti deve essere capace di non aspettare più nessuno fare la sua strada profetica come ha sempre fatto nella storia per diventare nuovamente un modello di riferimento questa mattina abbiamo sentito le grandissime difficoltà che ci sono in relazione ai servizi pubblici ai servizi che le famiglie si aspettano alle poche strutture ai pochi percorsi bene se qualcuno è indietro non è detto che dobbiamo essere tutti indietro scartiamo mettiamo la freccia sorpassiamo andiamo per la nostra strada la Chiesa può fare quello che gli altri non vogliono fare vedere quello che non vogliono vedere sicuramente diventeremo un po' fastidiosi un po' problematici ma anche questo appartiene alla storia della Chiesa alla sua missione e certo non sarà la prima volta che qualcuno dirà qualcosa di strano contro di noi però intanto facciamolo oltre che dirlo facciamolo con le nostre strutture facciamolo con le nostre capacità di vedere con la nostra capacità anche di agire chi sa leggere la storia ma chi sa anche da vedere la situazione attuale in Italia facilmente si renderà conto che troppo spesso la Chiesa ha una funzione vicaria nei confronti dello Stato troppo spesso la Chiesa si trova a risolvere problemi e a rivestire compiti che altri non possono o probabilmente non vogliono nemmeno prendere in considerazione da una parte non credo sia giusto perché la Chiesa deve svolgere il suo compito deve svolgere i suoi ruoli che non sono certo funzioni vicarie dall'altra al tempo stesso però di fronte all'uomo che soffre di fronte alla persona in difficoltà di fronte alla fragilità mai la Chiesa volgerà lo sguardo da un'altra parte sarà la prima a fermarsi costi quel che costi per accogliere quella persona comunque sempre dovunque e in ogni caso se dovessi parlare di una visione in questo momento alla fine di questa giornata mi viene in mente che ho bisogno di una visione integrale della persona abbiamo iniziato parlando stamattina della capacità dello sviluppo umano integrale nella sua venezza in ogni suo aspetto allora noi abbiamo bisogno di una visione integrale della persona perché non posso più vedere la patologia devo vedere la persona io vengo da un'esperienza ospedaliera in cui come è già stato citato più volte le persone vengono indicate o con il letto o con la patologia difficilmente ci ricordiamo i nomi delle persone però è anche vero che questa non è la parola finale noi possiamo cambiare questo nei nostri luoghi nelle nostre strutture nei nostri percorsi cominciando noi stessi a retarguire quei colleghi e quegli operatori che ci rispondono con il numero del letto o con la patologia basterà chiedere come si chiama io l'ho fatto l'ho fatto tante volte e creo grande difficoltà perché non possono non dirmi che non sanno il nome devono correre a cercare la cartella e a rabattarsi un pochino per ricordarsi il nome è una provocazione facciamola facciamola nelle nostre strutture in tutti i nostri ambiti ma a fronte di una visione integrale della persona ci sarà bisogno di una risposta integrata per la persona perché altrimenti la sola visione integrale della persona non sarà la risposta sarà l'obiettivo io mi pongo come obiettivo di avere una visione integrale della persona ma mi pongo come modalità e come metodo di avere una visione integrata della persona e allora dovremo essere capaci di fare le cose insieme e questa è una sfida altissima perché non siamo abituati dobbiamo essere capaci di stare accanto integrare le risorse dialogare sostenerci e aiutarci perché il tavolo della psichiatria meglio detto come l'abbiamo chiamato tavolo della salute mentale lo consideriamo un grandissimo obiettivo perché i massimi esperti di questa materia a livello nazionale con grande disponibilità hanno dato tempo e risorse per stare con noi ecco questa è una risposta integrata a una visione integrale e il tavolo proseguirà perché come abbiamo detto è tappa di un cammino e quindi proseguiremo nel nostro cammino nel prossimo anno ancora con una riflessione scientifico-accademica perché di questo abbiamo bisogno che i signori professori e i grandi professionisti ci diano il dato fondamentale che verrà integrata con una visione umana e pastorale della persona per raggiungere l'unico obiettivo unico che orienta tutti noi che è il bene completo della persona secondo la sua situazione secondo la sua capacità secondo il suo stato di salute ma sempre e comunque orientati verso il bene che cosa sogniamo? sogniamo una Chiesa che sia capace di integrare accogliere e accompagnare tutti coloro tutti coloro che si trovano in qualsiasi tipo di disagio e di difficoltà perché la Chiesa o è una comunità sanante che accoglie queste fragilità oppure non può dirsi Chiesa quel modello a cui stamattina facevamo riferimento di mondo perfetto mi viene in mente in questi giorni l'ho ripetuto in tanti luoghi e in tanti ambiti c'è una nazione dell'Europa che ha raggiunto l'obiettivo free down cioè praticamente sono state azzerate le presenze di persone down all'interno di quella nazione è stato visto come un grande obiettivo un raggiungimento quasi di un obiettivo civile la realtà è che sono state esterminate centinaia forse migliaia di persone in base a delle valutazioni prepartuali per cui non venivano portate avanti le gravidanze venivano abortiti perché le persone down sono difettose e quindi si buttano e proviamo un'altra volta a farne un altro e poi un altro e poi un altro fino a quando non esce uno secondo i nostri desideri questo non può essere un mondo che ci piace è molto lontano dal modello che la Chiesa propone di integrazione di conoscenza e di relazione con l'altro anche a noi verrà fatta la domanda un giorno dov'è tuo fratello e noi non possiamo rispondere l'ho buttato l'ho nascosto mi vergognavo non possiamo in alcun modo non rispondere a questa domanda fondamentale che quel giorno ci verrà posta noi dovremo rispondere questo fratello è qui accanto a me quando saremo capaci di dare questa risposta allora significa che avremo raggiunto un livello di comunione tra di noi degno di essere e di chiamarsi Chiesa voglio concludere semplicemente con una comunicazione che mi è arrivata qualche tempo fa di una lettera di encomio che è stata inviata a una direzione generale di un policlinico dove venivano lodati i medici per il servizio svolto e veniva lodato anche il cappellano questa famiglia che aveva una persona con una malattia psichiatrica molto problematica è stata accolta in questa struttura è stata accompagnata curata e la famiglia ha deciso di smettere per iscritto il ringraziamento ringrazia i professori la costante attività di controllo ammirevoli capacità professionali tutta la disponibilità e poi citano il cappellano e questo credo possa essere un po' come dire per noi dal punto di vista pastorale un punto di riferimento ringrazio nel cappellano per tre cose la sua lodevole assistenza morale e forse questo siamo capaci di farlo possiamo farlo la seconda per il rispetto c'è scritto e questo credo sia il secondo obiettivo che dobbiamo avere nei confronti delle persone che incontriamo e che a noi vengono affidate e terzo per l'amore trasmesso ecco se dobbiamo darci delle indicazioni delle prospettive io credo che questo possa essere il taglio con il quale affronteremo il nostro lavoro creeremo dei percorsi di formazione di integrazione e cercheremo di essere capaci di trasmettere questa capacità di amare grazie vi ringraziamo per l'infinita pazienza maturata fino a questo orario grazie infinito vi posso solo annunciare che sui canali youtube rimarranno a breve disponibili saranno disponibili tutte le relazioni per chi ne avesse bisogno entro il mese di febbraio verranno pubblicati gli atti di questo convegno e quindi contattando l'ufficio di pastorale della salute della CEI potrete richiedere informazioni grazie a tutti grazie a tutti